Ci sono sostanze illegali e poi ci sono sostanze legali che fanno male uguale. C'è la famiglia patriarcale che fa malissimo, c'è la televisione che fa malissimo, c'è il lavoro che fa malissimo. Poi ci sono delle persone come Alice nel Paese delle Meraviglie che risulta disfunzionale a tutto questo e noi l'amiamo per questo. E' meglio nutrire le nostre teste che prostituire il nostro corpo, questa è White Rabbit. Grazie. 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 Grazie.